Avevo un mazzo di carte totalmente rosse. Come puoi ben vedere le facce sono tutte quante mescolate. Adesso ti chiedo di dirmi stop quando vuoi. Stop! Prendi questa carta, lasciala un attimo lì. Anzi, farlo vedere in camera. Perfetto. Adesso devo capire qual è la tua carta. Per farlo è molto semplice. Infatti basta distendere le carte e magicamente sono diventate tutte quante blu. Quindi la tua è molto facile da individuare. Ma posso fare anche di meglio. Basta prendere le carte, girarle e tutte si saranno messe in ordine dall'asso al k. Ovviamente mancherà una carta proprio e la tua. Basta cercarla e manca in questo caso il 6 di fiori che è proprio la carta che hai scelto.